40 persone su una barella in attesa di un posto letto di cui una decina da 48 ore. La situazione del pronto soccorso del Santo Stefano che si è creata in questi giorni è esplosiva e riguarda solo in parte i ricoveri covid. Il boarding, ossia il tempo che intercorre tra la fine degli accertamenti dei medici di emergenza e la presa in carico da parte degli altri reparti dell'ospedale del paziente da ricoverare o su cui è necessario un ulteriore approfondimento, non solo non si è ridotto ma è addirittura peggiorato. Secondo la direttrice dell'ospedale, Sara Melani, l'inciampo è legato al repentino cambio della disposizione della struttura che è stato necessario attuare nell'ultime 48 ore per allargare l'area covid. I 10 letti aggiuntivi sono stati sistemati al posto di un setting chirurgico che in parte è stato spostato nell'area dove fino a poche ore prima c'erano i 10 letti della presa in carico dei pazienti provenienti dal pronto soccorso. È un problema di spazio, in poche ore la situazione è precipitata e abbiamo dovuto mettere mano agli assetti velocemente. L'estensione dell'area covid deve essere effettuata su spazi attigui per garantire continuità ai percorsi e quindi la scelta era obbligata, afferma la dottoressa Melani con grande trasparenza. Da domani riattiviamo la presa in carico con otto posti al terzo piano oltre al day service multidisciplinare nell'Alla Sud. E siccome i guai non vengono mai da soli a questa paralisi legata al cambio dei reparti, ieri si è aggiunto un problema alla melagrana, la struttura di Narnali dedicata alle cure intermedie in fase post-acuta. Poiché sono emersi dei pazienti positivi al covid, è stato necessario creare una bolla che ha ridotto la disponibilità di letti per i degenti non contagiati. In particolare su 42 posti totali tutti occupati, 12 sono per pazienti covid e 30 per non covid. Questo passaggio ha comportato la sospensione dell'arrivo di pazienti dal Santo Stefano fino al suo completamento. La catena di montaggio è così strettamente interconnessa che basta un contrattempo ad un anello per bloccare tutto. In questa fase storica quindi la pandemia peggiora un quadro con problemi cronici che vengono da lontano in termini di spazi a disposizione per ricoveri e di dimissioni scarse e lente, problemi che in attesa della nuova palazzina dell'ospedale nessuno ha risolto in modo strutturale.